Tra i tanti aspetti che si possono menzionare per adombrare la parzialità della narrazione ufficiale viene uno sul quale voglio purcelermente richiamare l'attenzione. È la questione tanto dibattuta degli oligarchi russi, che vengono continuamente evocati dal mainstream e dai padroni del discorso, i monopolisti della parola, i quali condannano gli oligarchi russi presentandoli come dei banditi, dei lestofanti, che hanno di fatto acquistato beni in tutta Europa e anche in Italia. Ebbene, si noti il bipensiero con cui operano i professionisti dell'informazione e i chierici del nuovo ordine mondiale atlantista e turbocapitalistico. Per un verso condannano senza pietà gli oligarchi russi e poi per un altro verso celebrano ininterrottamente gli oligarchi euroatlantisti, i vari Bezos, Soros, Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk. Insomma, gli oligarchi russi sono spietatamente criticati laddove gli oligarchi euroatlantisti non solo non sono criticati, ma sono anzi senza pose elogiati accompagnando il loro nome con l'etichetta di filantropi. Gli oligarchi russi sono dei banditi che debbono essere repressi ed espulsi. Gli oligarchi euroatlantisti invece sono dei benefattori, dei filantropi che vanno celebrati a tutta pagina sui giornali, in ogni maniera, di modo che le popolazioni ampiamente manipolate li amino e li salutino come benefattori dell'umanità tutta. Ecco, credo che anche solo questa contraddizione sia rivelativa di come la narrazione sia ampiamente manipolata e volta semplicemente a far sì che si accettino con ebete euforia i rapporti di forza quali realmente sono.